Grazie. E ovviamente ringrazio la società del quartetto, come ha detto Maddalena, anche per il logo prezioso che ci offre. E Maddalena, la dottoressa Maddalena Novati, che a dire il vero è anche il motore di tutto quanto. Allora, si parlava di categorie, sì. Le categorie del nostro concorso sono quattro, per la verità. La quarta è quella dei piccoli, che frequentano le scuole media in dirizzo musicale. Quelli, ovviamente, in questa occasione, non gli abbiamo chiesto il loro intervento. La prima categoria, vedete, è scritto tutto. C'è la loro età, quando hanno compiuto gli anni, nel periodo del concorso, quindi nel maggio dell'anno scorso. Sono tutti i ragazzi che hanno vinto più di un premio. Qualcuno solo uno, qualcuno ne ha vinti due, premi speciali. Insomma, sono tutti questi ragazzi che si esibiscono oggi, tranne Vittorio, che purtroppo è malato e non ci sarà, Vittorio Maggioli. Sono tutti, ripeto, vincitori di qualche cosa, primo, secondo e così via. E anche di alcuni premi speciali e quelli mi farà piacere nominarli perché in questo modo ricordiamo anche degli amici, dei grandi amici della musica e che la musica ha molto amato a sua volta. Grazie, buon ascolto. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti